Piena zona retrocessione, vediamo il quarto gol, respinta di Frey, non benissimo, Frey sulla respinta centrale, arriva a rimorchio Stojan che mette il pallone alle spalle del portiere del Genoa. E' la quarta sconfitta consecutiva in casa per il Genoa, la settima nelle ultime otto partite si mette male per Del Neri, Milano.